Quanto è bello partecipare alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico in un patrimonio UNESCO come i Templi di Pestum? Evidentemente per me è un'altra volta un piacere, un onore di essere presente in questa borsa. Per noi all'UNESCO la borsa è un grande simbolo di incontro tra i specialisti dell'archeologia, le università, il ministero dei beni culturali, le soprintendenze e gli operatori del turismo. La borsa è un evento unico nell'ambito del turismo e questa borsa è stata riconosciuta sia dall'UNESCO che da il patrocinio, dall'ICROM, Roma e anche dall'Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite per il Turismo. Noi veramente ogni volta quando arriviamo a Pestum, che non è soltanto un sito archeologico ma anche un territorio con la sua tradizione, con la sua ricchezza culturale e naturale, pensiamo che è un punto di riferimento anche per altri paesi. E per questo che Pestum è diventato un incontro un po' particolare perché ogni anno io ho visto per esempio il ministro della Cambogia, anche se la Cambogia non è presso il Mediterraneo, ma ci sono anche paesi come la Grecia, come la Turchia. Ma quest'anno è interessante di vedere la presenza del ministro del turismo, della cultura del turismo dell'Azerbaijan. Allora, qualcuno si può chiedere ma l'Azerbaijan non è sul Mediterraneo. Dunque ho proposto al presidente della provincia e alle autorità di probabilmente cambiare, invece di parlare della borsa del Mediterraneo, parlare della borsa mondiale del turismo archeologico.